oh mio cazzo ho cambiato un'impostazione ragazzi che cazzo è successo è diventato chiamara o antico mettiamo me stavo scherzando scherzavo aiuto mi sono calmato bello a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video sono favij e oggi siamo tornati su minecraft è passato tipo un anno l'ultima volta che ho fatto un episodio minecraft sarà cambiato tipo tutto ragazzi volo televisione puttana televisione cazzo posso richiedere di più che cazzo no 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 cosa non che mi si sminchia la cotoletta ma cosa cazzo mi fate gli incidenti aerei c'è sempre sto strano ecco vabbè questo questo è rimasto nei secoli cazzo il bambino non l'avevo mica visto l'importante è che sia contento lui poi vabbè comunque regali inizio eccola qua eccola qui dio mio almeno non si è sminchiata l'importante è questo perché siano morte delle persone robe fotte sega basta che la cotoletta sia salva ma ciao zia tutto a posto ah ma fa tipo come quando io faccio i selfie fa così con la mano e uno e due e one two three che cos'è un'altra ascia ah no un ramo perfetto allora ragazzi siamo tornati come i vecchi tempi mi sembra veramente strano di giocare a the forest è veramente assurdo c'è un coniglio raga c'è un coniglio nicchia che mira ascolta zio invece di farti le pippe vedi imparare a cacciare i conigli dov'è è qua bastardo ascolta zio non scappare non scappare che lo zio favi è amico tuo niente non c'è verso non lo prenderò mai nella vita già lo so guarda lì guarda lì gg pam e allora sei stupido l'ho preso l'ho preso ce l'ho fatta è morto sì è morto perfetto raga basta sono orgoglioso l'importante ragazzi andare avanti poi cosa c'è gollum il mio tesoro l'ho trovato io sul fiume che cazzo ragazzi dov'è gollum gollum vi giuro che l'ho visto non lo son sognato c'è l'altra parte dell'aereo raga che culo che è rimasta sull'isola fantastico c'è un tizio morto dentro probabilmente gollum si è avvicinato a vedere che cazzo è successo il padrone è rimasto ferito nello schianto aereo ah ti piacerebbe che fosse rimasto ferito stronzo sono ancora vivo l'avevo mai trovata io sta parte dell'aereo no la madonna zio non hai una bella cera ascolta frate c'è gollum che si aggira da queste parti quindi fate attenzione io vi fotto la roba e me ne vado grazie mille molto gentili avete per caso un happy meal che c'ho fame no eh ho trovato la pistola ragazzi sono a posto ho trovato la fottuta pistola sparadardi sono un killer adesso d'accordo ragazzi devo trovare smegol prima che un sasso bambi vieni qua bambi dove vai no 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 scappare non scappare bastarda cos'è veramente chi è che ha messo sta cosa qua oddio una corda per arrampicarsi ma c'è qualcuno no no che c'è bambi cazzo mi avete fatto perdere bambi sono distratto lurido bambi di merda la madonna che trick bastardo niente l'ho mancata non ce la farò mai raga prendi invece si devo uccidere bambi vaffanculo vaffanculo oh merda stavo scherzando ragazzi è tutto vostro è tutto vostro raga io me la do a gambe via 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 ecco ci siamo ci siamo devo calarmi giù raga devo calarmi giù per forza merda vai 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 oddio ma mi dicono che so usarla una corda per scalare sono morto così che bello sono ancora vivo come sono ancora vivo ragazzi sono di sotto fantastico ma non posso salire perché non so salire la corda porca puta salve che bello che sei veramente un figo ragazzi siamo nelle caverne però c'è un'uscita dal tetto non è mai successo ma questo è salame milano che si prende al supermercato no vero se equipaggiare l'alarma grazie a dio se vedo qualcuno li faccio saltare il cervello ve lo dico ah che ci sono i carrelli siamo ad esse lunga vabbè ragazzi l'importante è uscire devo trovare una fottuta torcia o non faccio due metri ve lo dico sto sentendo dell'acqua che scorre raga non so dove ma c'è un uomo che non è proprio comodo qua ho trovato una mappa mappa 3 di 4 collezioni ci sono le mappe in questo gioco di preciso dove stiamo andando cos'è un'altra ancora ma che cazzo è che si metta a scavalare che fa no 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 zio no non hai capito non scendere un calo ecco perfetto non sono caduto grazie a dio era basso va bene ci stiamo calando sempre di più qua sotto la cosa non è che mi entusiasma più di tanto però vabbè dai fanculo portiamo st'anello a mordor aperte questo ragazzi smigol ecco cazzo 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 ma va fanculo è morto non è morto è morto che cazzo fai balli la macarena è morto su ca su ca su ca il tesore mio cos'è barretta energetica che botta di culo assurda vai che c'è i mars fantastico che cosa orribile dove cazzo stiamo andando raga vedo una luce è un teschio ma come essere o non essere una lampada no non sei una lampada sei un teschio vabbè se c'è qualcun altro ragazzi tiro giù tutto il mondo dove siamo io sto andando sempre rigorosamente più in basso cos'è quella merda raga c'è una gamba avete perso una gamba ragazzi spegni l'accendino grazie piano piace che cazzo oddio santo merda dove cazzo vado ragazzi sta avvicinando perché mi stai venendo addosso lurido porco non mi ha visto vero mi ha visto cazzo mi ha visto lo spara lo spara lo spara marca puttana vacca che gnocca che sei non mi ha ucciso perfetto allora corri 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 fuori sono all'inizione mi ha ucciso come cazzo ho fatto a non uccidermi amico mio è una specie di gara del lancio porca puttana mi ha ucciso sono stato ucciso puttana vacca che non era neanche così bello poi cazzo vuoi tu vai via vabbè ragazzi sopravvissuto zero giorni beh io sono un pro gamer di queste cose d'accordo ragazzi ripartiamo come si deve perché micchia prima è stata una tragedia ho trovato una palla da tennis tra l'altro allora dove posso andare fatemi trovare sta minchia di spiaggia vi prego che ogni fottuta volta non la trovo mai che poi tra l'altro che è oh madonna che albero stavo scherzando ragazzi ok ma ciao cosa fate ragazzi giocate a nascondino guarda che a te non ti trova nessuno sei nascosto benissimo con la testa nel terreno è bellissimo cazzo è la spiaggia ogni volta ah eccola ma non è che hai capito bene se è quella dell'altra volta o se è un'altra diversa però ci sono degli squali sono degli squali morti per terra che bello ragazzi gesù moltiplicava i pesci io moltiplico gli squali è una mia dote ho moltiplicato uno squalo semplicemente toccandolo e va bene prendetene mangiatene tutti con tanto di palla da tennis ma che cos'è ah il nuovo victoria secret che ha aperto sull'isola fantastico ok ragazzi ci siamo ho equipaggiato questa perché mi sa di arma molto più violenta rispetto a quella di prima salve c'è per caso qualcuno non c'è che era per fare più veloce ma anche pigri ragazzi non vedo niente zero sto camminando veramente a vuoto spero di non incontrare qualcuno che mi uccide come niente porca puttana ma vaffanculo e c'è gente c'è già che cazzo vuoi dalla mia vita lurido porco vieni vieni basta vieni vieni qua ma che cazzo eh vabbè sono morto dai regà ma cosa ma come cosa ti tocchi ma cosa ti tocchi bastardo mi stanno trascinando ma sti stronzi ma veramente ma co mollatemi bastardo mi portano sulla montagna mi danno in sacrificio a satana sono vivo ancora ditemi di sì li prego sì eh posso anche uscire tra l'altro ancora qua ma che cazzo stavolta esco vaffanculo che poi sono deficienti mi hanno lasciato vivo che posso scappare vabbè dai meglio così oh che bello ma il tennis ragazzi è sempre comunque un grandissimo sport lo dirò sempre oh sì eccole le modelle di victoria secret stavano portando adesso che hanno aperto il negozio l'hanno perse qua babbi dai un'occhiata eh che intanto vado in giro no babbi devi dare un'occhiata bravo vedi che capisci che cazzo ti tocchi lurida pervertita no fa un culo oh micchia che cacciatore mamma mia manco in avatar tanto posso mangiarmela vero sì che tristezza ragazzi l'infanzia rovinatissimo c'è una caverna c'è una caverna ragazzi fatemi dare un'occhiata alla caverna che mo so curioso non ci posso mai morire perché io sono un pro sono un pro delle caverne allora fatemi dare un'occhiata e poi esco cazzo no 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 scherzavo 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 no no esco subito esco subito esco gollum di merda dov'è ragazzi porca puttana ce l'avevo dietro lurido pezzente muori crepa vaffanculo no non ci credo mai ti ammazzo la famiglia a tutti i tuoi fratelli schifosi ti odio il tessaro te lo infili nel cu niente è stato è stato bello però di provare a giocare fanno delle robe ai cambiamenti e cose ci riprovo di nuovo anche perché gollum in realtà io lo amo quindi ragazzi spero che il video vi sia piaciuto come se il video vi è piaciuto lasciate un commento e mi piace anche la pagina di facebook e come nel video trovate nella descrizione se non siete interessati iscriviti e ci rivediamo nel prossimo video bella ragazzi a qualcos'altro magari cos'è oddio era giusto era giusto invece ho mollato tutto perché sono incazzato